Buongiorno, pure oggi facciamo il video che mangiamo, vi vado a saldare il latte e poi ritorno. Via la sigla! E' strano perchè di qua c'è il sole, c'è il fanalino così però, mettiamo più luce, ecco, ho messo un po' più luce. Mi sono fatta il latte e il caffè, che io il caffè lo faccio la sera che fa prima. Mi sono scaldata il latte di soglio, mettiamo un zuccherino, come sempre, e beviamo il latte. La mia colazione non è che cambia, giusto se mi faccio il tè e basta. E maneggio un po' per squagliare lo zuccherino e poi bevo il latte. E intanto tiro su la cosa qua, non è che faccio colazione speciale così, con latte e caffè e pasta. Bevo il latte. Bevo tutto il latte e ci vediamo a ora di pranzo. Ciao a dopo. Ciao Fiorellini, questa me la metto per casa perchè guardate quanto mi sta grande questa maglietta. guardate eh, l'ho legata così perchè mi sta grandissima, guardate eh, enorme, enorme. e allora eh, l'ho legata così per eh, me la tengo per casa, questa maglietta, perchè poi si è andata così. E ok, adesso è ora di pranzo, mi sono legati i capelli perchè domani mi lavo i capelli. Mi sono legati e oggi mangio questo qua. Il riso coi funghi che è? E i funghi porcini. I riso coi funghi porcini. E adesso vi lascio e ci vediamo dopo. Ciao, a dopo, allo spuntino. Ciao. Buon pomeriggio. Oggi faccio lo spuntino diversamente. Con il latte caffè. Una mattina con zuccherino dolceficante. Buon pomeriggio. E beviamo il latte. Che sono 100 calorie. E vabbè. Beviamo il latte. E il caffè. È un po' troppo caldo. Lo aspettiamo un po'. Vabbè. Aspetta un po'. Poi bevo questo latte. E ci vediamo a ora di cena. Ecco. Adesso è ora di cena. E... Mangio... Questi qui con due cucchiaini di olio. Questo pazzo di carne. E la rosetta. Oggi una rosetta mi mangio. Va bene. Io adesso vi lascio. Vi aspetto dove andavo. Vengo dopo che ho mangiato. Ciao. Ciao. Ecco. Pure oggi. Abbiamo finito questo video. Spero che vi è piaciuto. Vi ho fatto compagnia. Buona cena. E... Buonanotte. A domani. Io adesso vi lascio. Perchè finito questo video. E ciao. Al prossimo video. Domani. Vi faccio un altro video. Di mangiare. Penso che lo metterò. Sempre. Il giorno dopo. Lo vedo. Se non ci sta. Qua sarebbe. Casomai. Qualche video. Mmm. Da mente. Non lo so. E va bene. Io adesso vi lascio. Ciao. Al prossimo video. Mega bacio.